In campo femminile le velociste australiane fanno strage di medaglie, vincendo praticamente tutte le corse e staffetta compresa. Nella finale dei 100 metri la nostra Giusy Leone parte in quinta corsia e si piazzerà al quinto posto. La meravigliosa Betty Kudbert non trova praticamente seria resistenza neppure nelle altre concorrenti e vince in 11 secondi e 5 decimi dopo aver segnato in batteria il primato olimpico con un decimo di secondo in meno. La Kudbert vincerà anche i 200 in bellezza e porterà il suo decisivo contributo alla conquista della medaglia nell'elettrizzante staffetta 4%.